Nel 2012 gli SMS hanno compiuto vent'anni. Nell'occasione Pietro Corraini ha progettato per la Moleskine un taccuino celebrativo. Il designer ha fatto hacking di una agendina aggiungendole una funzione e trasformandola in un SMS, Shooting Message System, un sistema di lancio di messaggi. Chi vuole modificare la struttura di un libro per fargli esprimere possibilità insolite, deve prendere in esame tutti gli elementi che lo compongono, compreso in questo caso l'elastico. Al taccuino sono allegati alcuni biglietti prestampati, ma il sistema funziona con qualunque foglietto. Piegato il messaggio lo si deve caricare sotto l'elastico. Una linea graduata consente di calibrare il tiro fino alla potenza desiderata. Lasciando andare il foglietto il proiettile raggiunge il destinatario. L'azione di hacking è minimale, l'aggiunta di una linea graduata trasforma un taccuino in un dispositivo balistico per il lancio di SMS analogici. Gittata massima 5,18 m. Nel 2013, in occasione del TEDx The Power of Love, Moleskine mi ha incaricato insieme a Ferdinando Buscema di progettare un taccuino collegato all'evento. Il rapporto tra potere e amore era un tema scivoloso. Martin Luther King aveva fatto notare che spesso sono visti in contrapposizione. Ma Dobbiamo renderci conto che il potere senza amore è sconsiderato e aggressivo e l'amore senza potere è sentimentale anemico. Questa idea della giusta dose ci piaceva. Mi riportava ai tempi del catechismo, quando leggevamo le parole di Gesù, siate puri come colombe e astuti come serpi. Il simbolo del power si trova su tutti gli elettrodomestici e il cerchio con un taglio verticale. Il cuore è un'immagine perfetta per l'amore. Per il giusto equilibrio tra i due abbiamo pensato a un cuore con un taglio verticale. Stampati sulla copertina del taccuino lo trasformano in uno strumento di meditazione, lasciato a riposo l'elastico e sull'amore, senza applicargli alcuna energia, e come l'amore senza potere molle anemico. Per collocare l'elastico sul power bisogna esercitare un po' troppa forza. Ma l'abbiamo detto, il potere senza amore è violento e aggressivo. Il giusto equilibrio si raggiunge tenendo l'elastico al centro, con uguali dosi di forza e gentilezza. Stampato in edizione limitata, oggi questo oggetto vale una fortuna. Ma nulla ti impedisce di usare del bianchetto per trasformare taccuino in un oggetto di meditazione. Diventa anche tu un hacker di libri.